Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su Planetwin 365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su Planetwin 365.news. CYDSO-1 is the probiotic recommended by top doctors and nutritionists. Go to seed.com slash Spotify for 25% off Seed's DSO-1 Daily Symbiotic. Apple Gift Card is a practical gift that unlocks a world of entertainment and fun. You can send it via email or give a physical card to your loved ones. Your friends and family can spend it on their favorite Apple services, including Apple subscriptions. Apple Gift Card can be used to buy all things Apple. Products, accessories, apps, games, movies, TV shows, iCloud Plus and more. Visit apple.com for details and to send Apple Gift Card to your friends and family this holiday season. In questi anni ho perso ben più di un amico. Ho perso me stesso più qualche accendino. La vita ti dà e poi ti toglie. Per questo ho paura di starti vicino. Perché solo tu l'hai capito. Pure se mi vedi poco, tu mi hai capito. Eppure se ti vedo poco, tutto ho capito. Questo è lo spoiler, diciamo, testuale che trapela di quella che sarà la collaborazione tra Sfere Basta e Madame. Una collaborazione che conferma in qualche modo le scelte giuste che fa questo ragazzo, Sfere Basta. Che quest'estate nel featuring con Blanchito mi fa impazzire, ha letteralmente conquistato tutti. Me compreso sono veramente impazzito per quel brano, letteralmente. E non è, diciamo, un brano che magari a livello lirico sia questo testo assurdo. È una questione di attitudine. Vabbè, Blanco ce l'ha di brutto. Sfere ha questo grande talento di riuscire in qualche modo a prendere i giovani volti del momento. Lui ormai, anche lui è giovane però, ha la stoffa di un veterano perché sono ormai 5-6 anni che è veramente al top. E ha il grande talento di sapersi mantenere in hype e il catalogo perché comunque fai un disco. Però poi col tempo, sì, la gente ti streamma, ti segue, tutto quello che ti pare. Però col tempo devi saperti muovere altrimenti rischi di scendere. E quando esce il nuovo singolo magari non proprio tutti lo vogliono, no? Non come prima. E invece lui riesce a mantenere l'inediticità dei suoi progetti. Cioè quindi un progetto singolo, nuovo, di sfere e basta, è tanto che non esce. Quindi sembra quasi che lui non abbia fatto nulla. Però quanti featuring sono usciti giusti? Come quello di Blanco mi fa impazzire. E in questo caso con Madame credo che cosa migliore non potesse fare. Perché Madame è una che ti porta qualità. Dal punto di vista vocale, dal punto di vista testuale. E entrambi hanno questo modo di saper comunicare a una nuova generazione. Con un linguaggio semplice, contemporaneo, ma che comunque arriva. Anche Madame che è più difficile da comprendere a volte, comunque arriva. E questo piccolo frammento di testo lo dimostra. Fondamentalmente sono quattro paroline, ma che espongono un concetto fondamentale. La paura emotiva di una generazione. Per questo paura di starti vicino, dice. Il sentirsi in qualche modo parte di un noi più grande. Perché solo tu l'hai capito. Questo è il discorso. Anche una banalità come ho perso me stesso più qualche accendino. Che è una frase ripetuta e ripetuta nel campo hip hop. Sfera in questo sa, diciamo, riscaldare la minestra giusta. Però comunque è un qualcosa che accomuna tutti. Tutti i fumatori perdono gli accendini, no? E quindi di conseguenza, soprattutto quando magari fumi canne con i tuoi compagni ed è un continuo girare di canne e accendini, alla fine li perdi tutti, vuoi o non vuoi. Quindi di conseguenza è un gergo semplice, stupido, ma che inconsciamente arriva a tutti. Mentre con Madame invece può fare anche quel level up, no? A livello lirico. Madame che questa estate ha fatto il singolo Marea. Che inizialmente, non so, non mi è piaciuto. Ho detto, mamma mia questa. Non l'ho ancora capito il singolo. Ma ultimamente mi capita di ascoltarlo e l'ho rivalutato. Spesso rivaluto cose. Anzi, sono più le volte in cui a primo impatto critico. Ma poi col tempo ho rivaluto sempre ciò che è di qualità. La ragazza è di qualità. Non ho capito neanche che cosa cazzo vuole dire con quel brano. E questo è un aspetto di Madame che mi piace un po' meno. Il fatto che a volte è criptica interessante. A volte è criptica nel senso che vuole fare. Però c'ha questa dote che riesce comunque a piacerti. A trovare la linea melodica giusta. E quindi mi aspetto veramente una ittona della Madonna. A me l'aspetto. Che poi magari rivaluterò col tempo. Che magari può non piacere. Però mi aspetto un qualcosa che veramente arriverà alla maggior parte delle persone. Con un fare esplosivo. Poi ecco, ragazzi. Il featuring giusto è un aspetto fondamentale. Pensate a Neffa. Che ha fatto un disco dopo 5 anni. E a parte il singolo di lancio. A Gio Perso Suon. Che poi anche insomma con Coetz. Taiwan. Insomma quindi è in featuring anche questo. Fondamentalmente non è che il disco ha fatto questi numeri. Anche se ci sono dei brani molto belli. Come Ammar Amore con Rocco Ante. Ma Neffa è così. Neffa fa il disco. C'è la traccia per il pubblico. Ci sono le tracce per chi lo ama. E così. È sempre stato così. Fin dalla notte dei tempi. Però ecco. Ti fa il disco dopo 5 anni. L'hype ok c'è. E tutto quanto. Però poi ti fa un singolo subito dopo con Da Supreme. E praticamente ti finisce veramente sulla bocca di tutti. A livello di ascoltatori mensili. E a livello di stream. Sale come non è salito con un progetto complesso. Quindi ecco. Diciamo che ad oggi è importante saper collaborare. E Sfere Basta è uno che sa come si collabora. Sa con chi si collabora. E secondo me difficilmente scenderà da questo trono. Diciamo del trap king come lo vogliono chiamare. Perché sa muoversi. E anche madame da tutto questo. Ne trarrà un bel beneficio. Vedi. Secondo l'antica filosofia della mobilità. Ci vogliono molti anni per raggiungere l'equilibrio perfetto tra forza ed eleganza. Tranne per Peugeot 3008 in pronta consegna e con 9000 euro di vantaggi. Parti subito e senza pensieri. Con il SUV iconico dal carattere deciso. Linee raffinate. E l'innovativo Peugeot E-Cockpit. Valido solo per vetture in stock. Con finanziamento iMove e immatricolazione entro il 31 dicembre 2023. Scopri di più su Peugeot.it